Buongiorno, sono Monica di CFSRL, un'azienda nata nel 1996 a Ferrara e specializzata nella fornitura di materiale per lettieri all'ingrosso per lavamenti zootecnici. La particolarità che ci contraddistingue è che utilizziamo mezzi propri, pertanto carichiamo esclusivamente materiale per lettiera e quindi è pressoché impossibile la contaminazione da agenti esterni. Caricando infatti con mezzi comuni è possibile che la lettiera venga a contatto con prodotti chimici o plastici e che quindi potrebbero anche far ammalare il bestiame. Disponendo appunto di mezzi propri possiamo garantire la consegna entro sette giorni dalla recezione dell'ordine e dalla conferma dell'ordine e i materiali che consegniamo sono l'olla di riso sfusa, truciolo sfuso, paglia in pellet sfusa, paglia di lino confessionata e incelofanata e inoltre possiamo disporre di miscele fatte di l'olla di riso e paglia in pellet sfusa e l'olla di riso e truciolo sfuso. Se siete interessati ad avere un preventivo cliccate sul tasto qui sotto e seguite i passi e indicatemi le vostre richieste. Siamo in attesa e vi ringrazio.